Il fatto del giorno, l'appuntamento con la notizia ed il commento di Contatto Lab e TV7 Avellino. Distritto biomedicale, di che cosa si tratta? Questo è l'argomento di oggi, di una proposta progettuale avanzata dal PD in questa campagna elettorale per le regionali, ufficializzata quest'oggi. Ma è qualcosa di più. Proviamo ad astrarla dal contesto a cui comunque abbiamo fatto riferimento in questi giorni per cercare di comprendere quali temi emergano in campagna elettorale, che sono le questioni che più dovrebbero interessare i cittadini al di là degli slogan. Ma in realtà questa è una proposta significativa e proprio per questo andrebbe valutata al di fuori di questa fase. E cioè una ipotesi di lavoro su cui costruire le basi per lo sviluppo nella provincia di Avellino. mettendo in rete le diverse e significative realtà scientifiche e formative che ci sono sul territorio. A cominciare dal CROM, il Centro di Ricerche Oncologico, dall'Istituto del CNR di Scienze Alimentari o dalle connessioni che ci sono con gli atenei della Campania, da quello della Federico II, le altre università napoletane, o quello Sannita e ovviamente l'Università di Salerno che è un po' considerata per certi versi l'Università Irpina per eccellenza. Mettere in rete tutte queste realtà insieme alle strutture pubbliche e private che si occupano della salute dei cittadini avendo cura di incrociare le specificità produttive di questo territorio che sono quelle dell'agroalimentare. Agroalimentare ma ha possibilità di costruire percorsi formativi per una ricerca che consideri l'alimentazione anche dal punto di vista della salute. Quindi un'analisi scientifica studiata perché in questa provincia di Avellino, oltre a delle filiere agroalimentari, esistono anche industrie del settore farmaceutico. Dunque provare a guardare al futuro e a questo settore che soprattutto dopo l'emergenza sanitaria del Covid-19 diventa strategico in termini di potenzialità, di crescita e di redditività degli investimenti. Questa è soltanto un'ipotesi sulla quale bisognerà aprire il confronto tra le forze politiche e sociali e soprattutto tra le realtà scientifiche del territorio, come dicevamo, che guardano con interesse ad un'ipotesi del genere. Di qui poi bisognerà aprire un percorso per tentare di trasformare tutto questo in occupazione e lavoro.